C'è Picci, c'è Maccarone, non c'è ovviamente Legretti, idem il lungo de gente, la Mantia e lo squalificato Derrico. Sono 19 i convocati da Nevi-Orlandi per l'impegno in trasferta contro la Paganese, in programma domani pomeriggio allo stadio Marcello Torre, fischio d'inizio, in virtù del cambio d'orario previsto alle ore 14.30. Due dei tre calciatori del Barletta, finiti mercoledì in ospedale per gli infortuni rimediati nel derby di Coppa contro il Lecce, dunque, fanno parte dell'elenco dei convocati. Maccarone e in extremis anche Picci, non c'è soltanto Legretti, la frattura del terzo medio laterale della calvicola destra infatti costringerà il capitano dei Biancorossi a restare lontano dei campi per circa un mese. Il dubbio più grande per il tecnico del Barletta riguarda ovviamente l'attacco, dovrà decidere se rischiare come principale terminale offensivo Antonio Giulio Picci, autore del gol del pari domenica scorsa al Puttilli contro la matricola Rivelazione L'Aquila e di conseguenza se confermare il 3-4-3 o tornare al 3-5-2 d'inizio campionato. Senza Picci è praticamente certo il ritorno al vecchio modulo con Zigon e Cicerelli in avanti con Picci. Due le possibili opzioni invece, 3-5-2 con uno tra Zigon e Cicerelli al fianco del centroavanti barese o 3-4-3 con l'utilizzo contemporaneo di tutti gli attaccanti convocati. Uomini e modulo a parte, il Barletta è chiamato contro la Paganese a cancellare finalmente lo zero relativo alle vittorie in campionato. Rispetto alla gara di Coppa contro il Lecce tornerà ovviamente titolare tra i pali i liverani. La difesa dovrebbe essere composta da Romeo Camillere di Bella con cane e Pippa sulle corsie, confermato Legrà in mezzo al campo dopo la buona prova con gli abruzzesi. Per l'altra maglia o eventualmente per le due maglie in caso di 3-5-2 ci sono Mantovani, Prucce, Ilari e anche Branzani tornato tra i convocati dopo l'infortunio. Una cosa è certa, per sperare nella vittoria il Barletta in difesa dovrà prestare molta più attenzione sulle situazioni provenienti da pala inattiva che hanno penalizzato i biancorossi nella prima parte di stagione sia in campionato che in Coppa proprio contro il Lecce. Dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più attenti, più vigili, più svegli ma questo fa parte della crescita di un gruppo che è in fase di formazione ancora e che sicuramente può solo migliorare.